Chi farà il giardiniere? Tu studierai sai, fanno fare architettura casomai di verde. Ciao Giastina, anche te studierai, te lingue farai. Guardate quanto sono divertenti. Sono i tuoi figli. Adesso ci dobbiamo mettere a posto col pelo. Ciao Several. Ricordatevi che le crocs piacciono molto. Abbiamo ancora gli operai, questo è da prima di Natale. E' fantastico. Ci chiamino quel piccolo, scappa, scappa, scappa. Amaretto, asul, souvenir che è una femmina, che tanti pensano souvenir, infatti in italiano il souvenir maschile. Però il francese mi si dice che è femminile. Poi l'ha scelta la sua allevatrice che è Tatiana Figura, perciò l'ho lasciata. Questo pelosissimo che deve andare il 3 a farsi fare il pelo. Non so cosa ci darà Luca Stegani, amore. E questa chi è? E' la mia albicocca. E sta arrivando sua mamma Dulcinea tutta di corso. Arrivederci.